Stasera presentiamo Cluedo Junior. Il gioco dell'editrice giochi del 1993, la scatola è completa con plancia, istruzioni, un dado, ci sono 15 carte, una busta nera, 24 perni nei quali andranno inserite le pareti, 6 pareti e 4 segnalini con relative basette, il paperino qui, qua e qua, e poi le schede dei giovani investigatori. Sulla falsa riga di Cluedo, lo scopo del gioco come per Cluedo è scoprire il personaggio che ha rubato la numero 1. Grazie a tutti! Grazie a tutti!